sono le 11 8 del 2 marzo 2023 io adesso devo togliere raccogliere questi io lavoro sempre almeno anche queste le mani e quindi questo mi viene portato di qua allora stiamo a portare questo e per me hai abituato che l'unico gioco faccio così allora guardate qui come faccio la cartina unica e poi qui in guardia stessi metto perfetto e gioco e qui qui in gioco in gioco oh questo qui allora la pia manca qui oh ecco in gioco in gioco ecco anche qui ecco e che ho raffreddito portata è una forza ecco e vai guardate qui cosa c'è ecco qui vabbè ma già basta questo scendiamo scegliendo il massimo qui ma già basta questo allora qui questo non è sapinato questo non è sapinato è dopo che si chiede cos'è lo metto qui adesso prendiamo la porcina facciamo cos'è un 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 un